Filippo Torto, una medaglia d'oro qui alla festa di Sky, la festa anche dello sport. Ecco, sei stato sul palco col ministro Abodi, quindi ti chiedo subito a che punto è lo sport italiano? Io penso che lo sport italiano sia un buon punto, ne sono testimoni i grandi risultati che in questi anni sta ottenendo, quindi penso che sia sano lo sport in Italia. Poi naturalmente ci sono sempre, soprattutto da sportivo, uno guarda sempre a quello che si può migliorare, a quello che si può fare, quindi sicuramente ci saranno delle cose su cui si può puntare, come si parlava prima di portare lo sport più nelle scuole, renderlo più presente per i bambini già dagli elementari fino ai ragazzi di liceo e anche all'università. Quindi ci sono sicuramente le cose da fare, però penso che lo sport sia in buona salute qui in Italia. Ecco, è passato un po' di tempo dai trionfi in Giappone e quando guardi indietro ti rendi conto di essere diventato, almeno in quest'ultima rassegna, l'uomo copertina della velocità azzurra. Cosa pensi di questo? Io penso che la copertina della velocità azzurra sia tutta la velocità azzurra, sia la staffetta maschile che quella femminile, quest'anno hanno ottenuto grandissimi risultati e di conseguenza penso non ci sia qualcuno o un singolo che possa rappresentare al meglio quello che è un movimento, se non il movimento stesso. Che ne pensi della scelta del tuo collega e compagno Marselle di andare ad allenarsi in America, magari con altri campioni internazionali e lasciare l'Italia? Cioè ne avete parlato anche tra di voi, visto che siete comunque un gruppo molto unito e l'abbiamo visto in mille occasioni? No, sinceramente non abbiamo parlato, io penso sia una scelta alla quale lui naturalmente ci ha ragionato tanto, ci ha pensato bene, quindi penso che abbia preso la scelta giusta e spero naturalmente che arrivino altri grandi risultati per lui. Come ti preparerai invece per le prossime Olimpiadi? Perché il focus è lì magari per bissare un oro a squadra e perché no migliorare anche a livello personale? Sicuramente si va per quello, saranno inizio lunedì la preparazione, quindi non so ancora bene come sarà, però lo so di per certo che lavorerò tantissimo per migliorare quanto fatto e sicuramente sono dell'idea che anche con la staffetta arriveremo molto agguerriti e consapevoli di quello che possiamo fare. Grazie.